Siamo lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare? Io vi benedico, è la Santa Vergine che protegga. Amici e amiche carissimi, una santa serata a tutti. Laudentur Iesus et Maria, anzitutto, che bisogna dirlo anche prima. Questa è la trentaduesima puntata del ciclo di catechesi dedicato a Maria di Magdala, che affronterà un tema nuovo. Può dare lezioni a Simon Pietro e può sostituire la madre nel pietoso compito di imbalsamare il corpo di Gesù. Siamo sempre nel contesto della morte del Signore e del ruolo che Maria di Magdala ha negli eventi immediatamente successivi alla morte. Questo è il brano che precede l'incontro con Gesù risorto nella risurrezione. Ce lo andiamo subito a leggere e poi, come sempre, riservandosi in corso di via qualche nota di commento. Ricordo sempre a chi sta partecipando, ormai vedo che abbiamo già abbastanza imparato, però durante la diretta, per favore, niente domande. Ci sarà la possibilità, terminata la catechesi, di intervenire sia attraverso le chat live per gli abbonati di YouTube, Instagram, TikTok e sarà aperta poi la diretta sul canale Telegram per poter interlocuire a voce con me. Vado, può dar lezione a Simon Pietro e può sostituire la madre nel pietoso compito di imbalsamare il corpo di Gesù. Pietro è stato il primo apostolo a ricomparire dopo la generale defezione. La madre ha accolto il suo sincero pentimento e ha cercato di lenire la sua grande angoscia. Le donne riprendono i loro lavori agli oli che nella notte al fresco del cortile si sono solidificati in una manteca pesante. Giovanni e Pietro pensano che è bene mettere a posto il cenacolo pulendo le stoviglie, ma poi rimettendo tutto come fosse appena finita la cena. Egli lo ha detto, dice Giovanni. Aveva anche detto non dormite, aveva anche detto non essere superbo, Pietro. Non sai che l'ora della prova sta per venire e ha detto tu mi rinnegherai. Pietro piange di nuovo mentre dice con cupo dolore e io l'ho rinnegato. Basta Pietro, ora sei tornato tu, basta di questo tormento. Mai, mai, mai basta. Divenissi vecchio come i primi patriarchi, vivessi i settecento o i novecento anni di Adamo e dei suoi primi nipoti, io non cesserò mai di avere questo tormento. non speri nella sua misericordia? Sì, se non credessi a questo sarei come l'iscarioto, un disperato. Ma se anche lui mi perdona dal seno del padre dove è tornato, io non mi perdono, io, io, io che ho detto non lo conosco, perché in quel momento era pericoloso conoscerlo, perché ho avuto vergogna ad essere di discepolo, perché ho avuto paura della tortura. Lui andava a morire e io, io ho pensato a salvarmi la vita e per salvarla l'ho respinto come una donna in peccato. Dopo averlo partorito, respinge il frutto del suo seno che è pericoloso avere presso, prima che torni il marito ignaro. Peggio di un'adultera, peggio di... Entra, tirata dalle grida, Maria Maddalena. Non urlare così, Maria ti sente, è tanto sfinita, non ha più forza di nulla e tutto le fa male. I tuoi gridi inutili e scomposti le tornano a dare il tormento di ciò che voi foste. Vedi? Vedi Giovanni? Una femmina può impormi di tacere. E ha ragione, perché noi, i maschi, sacri al Signore, abbiamo saputo solo mentire o scappare. Le donne sono state brave. Tu, poco più di una donna, tanto sei giovane e puro, hai saputo rimanere. Noi, noi, i forti, maschi, siamo fuggiti. Oh, che disprezzo deve avere il mondo di me. Dimmelo, dimmelo, donna. Hai ragione. Mettimi il tuo piede sulla bocca che ha mentito. Sulla suola del sandalo c'è forse un poco del suo sangue. E solo quel sangue, mescolato al fango della vita, può dare un poco di perdono, un poco di pace al rinnegato. Devo pure abituarmi al disprezzo del mondo. Che sono io? Ma ditelo, che sono? Sei una grande superbia, risponde calma la mandalena. Dolore? Anche quello. Ma credi pure che su dieci parti del tuo dolore, cinque, per non offenderti dicendo sei, sono del dolore di essere uno che può essere disprezzato. Ma che davvero io ti disprezzerò se continui solo a gemere e a dare in smanie, giusto come fa una femmina stolta. Il fatto è fatto e non sono i gridi scomposti che lo riparano e annullano. Non fanno che attirare l'attenzione e mendicare una compassione che non si merita. Sii virile nel tuo pentimento, non strillare. Fai... io... tu lo sai chi ero, ma quando ho capito che ero più sprezzabile di un vomito, non sono andato in convulsioni. Ho fatto pubblicamente senza indulgere con me e senza chiedere indulgenza. Il mondo mi sprezzava. Aveva ragione. Lo avevo meritato. Il mondo diceva un nuovo capriccio della prostituta e dava un nome di bestemmi al mio andare a Gesù. Aveva ragione. La mia condotta di prima il mondo la ricordava ed essa giustificava ogni pensiero. Ebbene? Ebbene? Il mondo si è dovuto persuadere che Maria peccatrice non era più. Ho coi fatti persuaso il mondo. Fa tu altrettanto e taci. Sei severa Maria, obietta Giovanni. Più con me che con gli altri. Ma lo riconosco. Non ho la mano leggera della madre. Lei è l'amore. Io ho spezzato il mio senso con la sferza del mio volere e più lo farò. Credi che mi sia perdonata io di essere stata la lussuria? No. Ma non lo dico altro che alla mia persona e sempre me lo dirò. Consumata morirò in questo segreto rimpianto di essere stata la corruttrice di me stessa? In questo inconsolabile dolore di essermi profanata? E di non avere potuto dare a lui che un cuore calpestato? Vedi, io ho lavorato più di tutte i balsami e con più coraggio delle altre io lo scoprirò. Oddio, come sarà ormai? Maria di Magdalena impallidisce solo a pensarlo. E lo coprirò di nuovi balsami, levando quelli che saranno certo tutti corrotti sulle sue piaghe senza numero. Lo farò. perché le altre sembreranno con volvoli dopo un'acquata. Ma ho dolore di farlo con queste mie mani che hanno dato tante carezze lascive, di accostarmi con questa mia carne macchiata alla sua santità. Vorrei avere la mano della madre vergine per compiere l'ultima unzione. Maria ora piange piano, senza sussulti. Come diversa dalla maddalena teatrale che sempre ci presentano. È lo stesso pianto senza rumore che aveva il giorno del suo perdono nella casa del Fariseo. Devo fare uno stop, amici, perché penso che qui siamo veramente giunti ad un vertice. In questo dialogo, sia in quello che dice Pietro, sia in quello che dice Maria di Magdala, ci sono dei concetti fondamentali. E ci sarà anche un modo per, spero, stroncare una volta per tutte, speriamo una volta per tutte, perché questi sono peggio dell'araba fenice, alcune malsane, false, pericolose e stolte idee e concezioni della misericordia divina. Allora, c'è un indumento liturgico, cominciamo da qui, che oggi, tra le tante cose che sono state messe nel dimenticatoio personalmente, solo Dio conosce l'entità delle sofferenze del mio cuore nel vedere queste cose, insomma. Solo Dio. Pazienza. Ce lo siamo meritato con i nostri peccati, quindi questo è anche di peggio, almeno parlo per me, perché un tale... C'era un indumento che si usava anticamente, adesso non si usa più, a parte il fatto che adesso togli questo e togli quell'altro, molti ministri sacri hanno tolto tutto, la mito non si mette più, il cingolo non si mette più, la storia non si mette più, per celebra la messa, molti si mettono il camice alla belfagor e la casula, basta. D'estate, perché fa caldo, il camice alla belfagor e una stoletta, basta. E addio a tutti quanti i paramenti sacri con le relative sante preghiere che si mettevano un tempo. In ogni caso, anche se ci fosse un prete ligio, che ce ne sono, grazie a Dio ancora, che si vesta decentemente, quindi che gli altri cinque paramenti, cioè la mito, l'alba, il cingolo, la stola e la casula li mette, comunque sia uno è stato tolto, che è il manipolo. Il manipolo era una piccola stolina che si attaccava sotto l'avambraccio, sotto il gomito sinistro, sull'avambraccio. E la preghiera che lo accompagna dice, Merear domine portare manipulum fletis et doloris. Possa meritare o Signore di portare il manipolo, così si chiamava, fletus del pianto e del dolore. Ut cum, exultazione, recipient mercedem laboris. Affinché con esultazione possa riscuotere la mercede del lavoro. Quale lavoro? Quello di Pietro e quello di Maria di Magdala. Il lavoro del pianto, del pentimento e della penitenza, che è un lavoro, è un grande lavoro. È un lavoro da farsi, figlioli miei cari. Quando Giovanni chiede a Pietro, non speri nella sua misericordia, se non sperassi fare la fine di Giuda. Però Pietro l'ha fatta grossa, figlioli miei cari. Eppure Maria di Magdala l'ha fatta grossa. Perché ho citato questo indumento? Perché questo indumento, secondo la tradizione, entrò nella liturgia a causa dei pianti di Simon Pietro, che non poteva celebrare la messa senza piangere. Quando si celebra la messa si piange per tanti motivi. Si può piangere anche di pentimento per i propri peccati. E lui, immancabilmente, perché la messa e la rinnovazione del sacrificio del Signore, della passione della morte del Signore, lui c'era come faceva a non ricordarsi quella sera. E quindi scoppiava in pianto. Allora gli davano un fazzoletto che lui si appoggiava appunto sul braccio sinistro per assocarsi perché piangeva come un bambino. E da qui è nato poi il manipolo. Ora, certo, Maria di Magdala lo rimprovera a Pietro. Perché io avrei dovuto strillare, insomma, per leggere, però si capisce dal testo. Dal testo, Pietro stava dicendo quelle cose che stava dicendo, urlando, gridando. Quando noi diciamo le cose gridando, c'è qualcosa che non va. Perché certamente, come poi le fa notare Maria di Magdala, in quel dolore c'era mista la superbia. Cioè non accettare di essere caduti e quindi di essere disprezzati. E invece questo lo dobbiamo accettare, figlioli miei cari. Noi stiamo in un mondo che la cosa grave è che questa cosa, a volte, disgraziatamente, viene anche alimentata, scusate un attimo, da certi ambienti di chiesa, dove si pensa che la misericordia sia un colpo di spugna che elimina tutto e è tutto finito. Non ti dobbiamo rendere nessuna responsabilità, nessun carico delle cose che hai fatto. Ma questo non è vero, questo qui. L'hai fatta grossa? Ti disprezza, no? Bene, ti prendi disprezzo. Zitto, buono e mosca. Perché te lo meriti. Te lo meriti. E te lo prendi. E senza strillare. Dice, lui mi perdona. Io non mi perdono. Io non mi perdono. Perché era fatta grossa. Sapete che i peccati si possono anche piangere a vita. Piangere un peccato a vita non è non avere fiducia nella Divina Misericordia. Bisogna vedere perché si piange. È sempre l'intenzione, no? Se uno piange disperato e pensa Ah, Dio non mi perdonerà mai, bestemmia. Non si piange in questo modo. Facciamo sempre attenzione che una cosa importantissima nelle nostre azioni è l'intenzione vi faccio un esempio. C'è gente che fa 200 confessioni generali che non dovrebbe farle. Perché? Perché fa questa cosa in modo malato. Nel senso che avendo una coscienza scrupolosa che fa? Dice, ho fatto la confessione. Ah, dopo un po' questa cosa non l'ho detta però forse quest'altra cosa non l'ho detta bene però c'è e poi una, due, tre, quattro, cinque, sei di poi Sant'Alfonso Maria del Liguori dice che la confessione generale si può rifare si può reiterare non a distanza di una settimana ovviamente magari a distanza di qualche anno ma perché? Primo perché devi fare un'altra bella penitenza perché specialmente se uno ha combinato un po' di guai l'ha fatti un po' di peccati e insomma ha anche l'atto del farla la confessione è un'umiliazione grande è una sofferenza grande è una penitenza grande si chiama sacramento della penitenza perché soltanto celebrarlo è già fare penitenza perché confessare i peccati è un atto di penitenza o no? Qualcuno si diverte a confessare i peccati? A confessarli bene? non credo secondo perché eserciti ancora il pentimento ripensandoci il cuore soffre si ha dolore signore mio che ho fatto mi dispiace tanto e questo va bene questo qui mica va male non è che ti fa male fare un'altra volta terzo la penitenza ulteriore che riceverai ti andrà a sconto dei peccati che hai commesso e te fai un altro po' dei purgatori in meno così va bene però se uno ha le paturnie cioè io dico allora è impossibile che noi ci ricordiamo tutto allora la confessione è fatta bene io l'ho sempre predicato cioè noi non dobbiamo fare i furbi nel senso che perché il signore dobbiamo sempre pensare che vede la nostra coscienza se io taccio di dire o di dire bene una cosa che so e che saprei dire bene la confessione è sacrilega ma il signore sa che io posso pure mettermi con tutta la buona volontà posso pure fare un mese di ritiro è molto difficile ricordare proprio tutto 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 lui lo sa quindi non è una cosa buona starsi a tormentare in eterno con queste confessioni generali che bisogna farne cinquemila se si ha questa intenzione spero di essere stato chiaro allora Pietro va bene quello che dice però Maria di Madre dice se ti può che te strilli che strilli si virile nel tuo pentimento hai fatto ormai questo qua l'hai fatto non è che se ti metti a strillare come un matto riparerai o annulerai quello che hai fatto no anzi farai ah povero Pietro oh che ha fatto ma non c'è non c'è ben saputo hai visto come ha fatto Giovanni ma lì si ricordia zitto vattene in camera tua e fate un bel po' di pianti e sentite che dice io quando ho capito che ero più sprezzabile di un vomito lo dice Maria di Magdala perché lo era la verità era una zozzona Maria di Magdala ok una corrotta una lussuriosa una lubrica ha fatto delle porcherie inaudite schifose e se l'ha detto da sola e le conseguenze se le ha prese ho fatto pubblicamente è andata a casa di Simone il fariseo il mondo sapendo che l'avrebbero disprezzata avrebbero fatto le risatine d'accordo adesso questo è l'altro capriccio ma adesso gli ha preso così no giusto normale che facciano questo me lo prendo me lo merito me lo prendo zitta zitta il mondo ricorda la condotta e quindi mi disprezza me lo tengo però però farò in modo pur accettando questa situazione di persuaderlo del contrario con i fatti però non con gli strilli e quando Giovanni lo obietta sei severa conosco bene io questa espressione sei severo oppure sei troppo rigido l'ho detto alla marchigiana tu sei troppo rigido lei risponde più con me che con gli altri lo riconosco non ho la mano leggera della madre lei è l'amore la madonna la madonna ha le mani d'oro usa il bisturi e non ti fa senti niente manco senza farti l'anestesia i caratteri forti i caratteri impetuosi ma lei di Magdala è un emblema di questo qui è gente che ha una volontà d'acciaio e quindi la volontà d'acciaio evidentemente è un carattere di un certo tipo io ho spezzato il senso con la sferse dal mio volere e qui interviene lei credi che mi sia perdonata di essere stata la lussuria no no adesso c'è il fin Dio perdona io no non gli altri noi stessi gli altri sempre ma non lo dico altro che la mia persona e sempre me lo dirò consumata morirò in questo segreto rimpianto e guardate lo vedremo come muore la madre di Magdala la madre di Magdala non è che qui si è fatta la chiacchieratina devota vabbè adesso noi facciamo un pochettino un po' di scena no dice sì io sono una grande peccatrice morirò così poi però no no che poi però questa è la messa in pratica per tutta la vita è morta penitente e che penitenze che ha fatto consumata morirò in questo segreto rimpianto di essere stata la coluttrice di me stessa in questo inconsolabile dolore di essermi profanata e di non avere potuto dare a lui con cuore calpestato capito come si ci si come si reagisce quando le abbiamo fatte grosse questa non si sta giustificando e questa non sta dicendo ah vabbè il signore mi ha perdonato quindi basta a me non sono mai piaciute queste queste non è che non è che non è che voglio dare tormento al prossimo e nemmeno a me stesso ma è una vita che nella chiesa si parla di penitenza bisogna farla san francesco e san domenico ci hanno fondato due ordini religiosi li chiamavano quando uno diventava frate sia domenicano che francesco è ammesso alla penitenza che viene a fare a fare frate fa penitenza per te per gli altri noi oggi niente da starecchia non ci sentiamo raccontano i fedeli laici che molti ministri a quanto pare nemmeno danno la penitenzina sacramentale che oggi fa ridere quasi le galline no? perché non è nemmeno un gesto poco più che simbolico è un gesto ormai diventato meramente simbolico cosa che non va bene neanche questo non dico che vado a prendere se lo ha qua dietro il penitenziale di san colombano abbate che se un giorno dovessi fare una catechesi con quella roba lì in diretta penso che forse rischio la scomunica però quello sarà san colombano abbate io leggo andate a vedere come erano le penitenze nel settimo secolo andate 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 a vedere prima per i chierici e per i consacrati e poi per i laici in base a certi peccati chissà quali sono no? andate andate a vedere altro che tre ave maria della madonna vai 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 a vedere sta cosa non va bene grande ma le dimagra noi dobbiamo essere virili come dice lei averci gli attributi agire in maniera dignitosa hai fatto un guaio il guaio si paga te ne prendi la responsabilità ti offri tu stesso non che svicoli come fanno i furbastri i dritti nel mondo che fanno i guai e poi cercano di di andare a a svicolarsela a farla franca che è sto modo di agire davanti al signore il giusto dice signore castigami fammi fa penitenza qualcosa mandamela tu senza paura dopo viene la misericordia lo so che mi hai già perdonato ma io ho queste responsabilità mai dubitare del perdono di Dio quando noi siamo pentiti ma questo non toglie tutto questo uno non ci crede va si accomodi pure poi quando sarà morto ci crederà quando lo conoscerà in purgatorio perché guarda che tutto quello che non si è fatto qui si fa dopo non si scampa da queste cose pensa pure che si scampi io carità facciamo che mi sbaglio io ma non io queste cose qui non le dico da me stesso io le ho imparate le ho ascoltate le ho lette le stiamo ascoltando io non dico mai cose che vengono dalla mia come dire dalla mia elucubrazione personale che non è che mi vedo tanto delle cose che penso io eh anzi tutt'altro io riferisco quello che che mi sembra di aver appreso di gente che ne sa molto più di me che è molto più istruita di me è molto più dotta di me è molto più santa di me soprattutto dinanzi a qui io non sono neanche degno di nominarla sta gente qui va bene proseguiamo tu dici che le donne avranno paura davanti al corpo di Gesù no? le chiede Pietro non paura ma si turberanno davanti al suo corpo certo è già corrotto gonfio nero e poi questo è certo avranno paura delle guardie vuoi che venga io io con Giovanni ah questo no noi si esce tutte perché come fumo tutte lassù così è giusto che tutte si sia intorno al suo letto di morte tu e Giovanni rimanete qui lei non può restare sola non viene lei lei è la Madonna ovviamente non lo lasciamo venire lei è convinta che risorga dice Pietro e tu? io dopo Maria sono quella che più credo ho creduto sempre che così potesse essere lui lo diceva e lui non mente mai lui o prima lo chiamavo Gesù maestro salvatore signore ora ora lo sento tanto grande che non so non oso più dargli un nome che gli dirò quando lo vedrò sentite eh ma credi proprio che risorga un altro dice lei o a suon di dirvi che credo di sentirvi dire che non credete finirò con non credere più neppure io ho creduto e credo ho creduto e gli ho da tempo preparato la veste e per domani perché domani è il terzo giorno la porterò qui pronta ma se dici che sarà nero gonfio brutto brutto mai brutto è il peccato ma ma sì sarà nero ebbene Lazzaro non era già marcio pure risorse ed ebbe la carne disarcita ma ma se lo dico tacetemi scredenti anche me la ragione umana mi dice è morto e non sorgerà ma il mio spirito il suo spirito perché io ho avuto un nuovo spirito da lui grida e sembrano squilli di argente tube sorge 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 perché mi sbattete come una navicella contro la scogliera del vostro dubitare io credo credo mio signore Lazzaro ha obbedito con strazio al maestro ed è rimasto a Betani io so chi è Lazzaro di Teofilo un forte non un leprotto pravido posso misurare il suo sacrificio di rimanere nell'ombra e non presso il maestro ma ha obbedito più eroico in questa obbedienza che se l'avesse strappato con le armi e gli armati io ho creduto e credo e qui sto in attesa come lei ma lasciatemi andare il giorno sorge appena ci si vede la sufficienza noi andremo al sepolcro e la Maddalena se ne va col suo viso bruciato dal pianto ma sempre forte qui faccio un altro piccolo stop perché la Maddalena fa riferimento ad un episodio che non mi ricordo se in quest'opera diciamo che sintetizza la vita di Maria di Magdala è emerso con sufficiente chiarezza lo dico io però Gesù disse a Lazzaro ovviamente quello che stava per succedere e gli chiese l'obbedienza di rimanere nell'ombra cioè Lazzaro non c'è andato al Calvario non per paura questo dice non è un leprotto pavido come gli altri ma perché il Signore gliel'ha proibito ha detto tu devi rimanere se vuoi farmi contento devi rimanere qui perché ti do il compito di andare a raccattare a raccogliere a radunare gli apostoli che staranno tutti quanti in giro raminghi dopo la mia morte e questo ha fatto questo è un particolare che sappiamo dagli iscritti di Maria Valtorta ovviamente come in tutto quello che riguarda quest'opera liberissimi di crederci o di non crederci rientra da Maria che aveva Pietro dice una crisi di nervi ma gli è passata non essere dura Maria soffre anche io ma vedi che non ti ho chiesto neppure una carezza lui è stato già medicato da te ed io invece penso che solo tu madre mia hai bisogno di balsamo madre mia santa amata a fa cuore domani è il terzo giorno ci chiuderemo qui dentro noi due le sue innamorate tu l'innamorata santa io la povera innamorata ma come posso lo sono con tutta me stessa e lo aspetteremo loro quelli che non credono li chiuderemo di là con i loro dubbi e qui metterò tante rose oggi farò portare il cofano ora passerò dal palazzo e darò ordine a Levi via tutte queste orribili cose non le deve vedere il nostro risorto tante rose e tu ti metterai una veste nuova non deve vederti così io ti pettinerò ti daverò questo povero volto che il pianto ha sfigurato eterna panciulla io ti farò da madre avrò infine la beatitudine di avere cure materne per una creatura più innocente di un neonato cara e con la sua esuberanza affettiva la maddalena si stringe al petto il capo di Maria che è seduta la bacia la carezza e la via le lieviciocche dei capelli scomposti dietro le orecchie le asciuga le nuove racrime che scendono ancora ancora sempre collino della sua veste entrano le donne con lumi e anfori e vasi dalle ampie bocche Maria si pongono in un lato su un tavolo stretto ma lungo pongono tutte le loro cose e poi danno un ultimo tocco ai loro balsami mescendo nel mortaio su una polvere bianca che estraggono ammanciate da un sacchetto la già pesante manteca dell'essenza mescolano lavorando di lena e poi empiono un vaso dall'ampia bocca lo pongono al suolo ripetono con un altro la stessa operazione profumi e lacrime cadono sulle resine Maria Maddalena dice non era questa l'unzione che speravo poterti preparare perché la Maddalena che è più esperta di tutte ha sempre regolato e diretto la composizione del profumo tanto acuto che pensano di prendere la porta e di socchiudere la finestra sul giardino che è appena in alba tutte piangono più forte dopo l'osservazione sommessa della Maddalena hanno finito tutti i vasi sono pieni escono con le anfore vuote il mortaio ormai inutile a molte lucerne ne restano due sole nella stanzetta e tremano pare si inghiozzino anch'esse col palpitare della loro luce rientrano le donne e chiudono di nuovo la finestra perché l'alba è freddina si pongono i mantelli e prendono delle ampie sacche in cui collocano i vasi del balsamo Maria si alza e cerca il suo mantello ma tutte le si affollano intorno per sodendola non venire non ti reggi Maria sono due giorni che non prendi cibo un poco d'acqua soltanto si madre faremo presto e bene torneremo subito non temere lo imbalzameremo come un re vedi che balsamo prezioso componemmo e quanto non trascureremo membro ferita e lo metteremo con le nostre mani a posto siamo forti e siamo madri lo metteremo come un bambino nella cuna e agli altri non resterà che da chiudere il suo posto ma Maria insiste è il mio dovere dice l'ho curato sempre io solo in questi tre anni che fu del mondo ha ceduto ad altri la cura di lui quando egli mi era lontano ma ora che il mondo lo ha respinto e rinnegato è di nuovo mio e io torno alla sua serva Pietro che con Giovanni si era avvicinato all'uscio non visto dalle donne fugge sentendo queste parole fugge in qualche angolo nascosto per piangere sul suo peccato Giovanni resta presso lo stipide ma non dice niente vorrebbe andare anche lui ma fa il sacrificio di rimanere presso la madre Maria Maddalena riconduce Maria al suo sedile le si inginocchia davanti la abbraccia i ginocchi alzando verso lei il suo voluto doloroso innamorato e le promette egli col suo spirito tutto sa e vede ma al suo corpo con i baci io dirò il tuo amore il tuo desiderio io so cos'è l'amore so che pungolo che fame è amare che nostalgia di essere con chi è l'amore per noi e questo è anche nei vidi amori che sembrano oro e fango sono quando poi la peccatrice può sapere ciò che è l'amore santo per la misericordia vivente che gli uomini non hanno saputo amare allora meglio può comprendere cos'è il tuo amore madre tu lo sai che io so amare e tu sai che egli lo ha detto in quella sera del mio vero Natale sulle rigue del nostro lago sereno che Maria sa molto amare ora questo mio esuberante amore come acqua che è trabocca da un bacino piegato come roseto in fiore che si rovescia giù da una moraglia come fiamma che trovando esca più si apprende e cresce e si è tutto riversato su lui e da lui si è tutto riversato su lui e da lui amore ha tratto nuova potenza o che la mia potenza d'amare non ha potuto sostituirsi a lui sulla croce ma quello che per lui fare non ha potuto patire sanguinare e morire al suo posto fra gli schermi di tutto il mondo felice felice di soffrire al suo posto e nessuno certa arso ne sarebbe stato lo stamme della mia povera vita più dall'amore trionfale che dal patibolo infame e sarebbe dalle scene di sbocciato il nuovo candidato fiore della nuova vita pura vergine ignorante di tutto ciò che non è dio tutto questo che non ho potuto fare per lui per te lo posso fare ancora madre che amo con tutto il mio cuore fidati di me io che ho saputo in casa di simone il fariseo così dolcemente accarezzare i suoi piedi santi ora con l'anima che sempre più sboccia la grazia saprò ancora più dolcemente accarezzare le sue membra sante medicare le ferite imbalsamarle più col mio amore più col balsamo tratto dal mio cuore spremuto dall'amore e dal dolore che non col lunguento e la morte non intaccherà quelle carni che tanto amore hanno dato e tanto ne ricevono fuggirà la morte perché l'amore è più forte di essa è invincibile l'amore e io madre col tuo perfetto e col mio totale di amore imbalsamerò il mio re d'amore maria bacia questa appassionata che ha finalmente saputo trovare chi merita tanta passione e cede e cede al suo pregare le donne escono portando una lucerna nella stanza ne resta una sola ultima esce la maddalena dopo un ultimo bacio alla madre che resta che dire amici qui di nuovo il brano è finito siamo riusciti a leggerlo tutto qualche altra parola di breve commento prima di concludere è perché qui in questo dialogo con Maria di Nazareth Maria di Magdala torna sul suo punto forte sul suo cavallo di battaglia sulla quintessenza della sua personalità un carattere d'acciaio una volontà ferma una volontà fortissima come abbiamo visto una addirittura ad una severità esemplari ma un amore ancora più folle l'alimento della fede come dire in Maria di Magdala della fede anche nella risurrezione che eroicamente si è sforzata di conservare fino alla fine è stato l'amore e qui dice ma gli ha detto Gesù tu sai che io so amare egli lo ha detto Maria sa molto amare e e dice addirittura al suo corpo con i baci io dirò il tuo amore il tuo desiderio io so cosa è l'amore e per questo si ricorda anche addirittura qualcosa perché questo è vero anche nei vigli amori che sembrano oro e fango sono e quando poi la peccatrice può sapere ciò che è l'amore santo per la misericordia vivente allora meglio può comprendere cosa è il tuo amore male qui Maria di Magdala pur essendo una grande penitenza è precorritrice della grande dottrina come sappiamo della mistica santa francese Teresa di Gesù bambino la piccola via la piccola via dell'amore ma non è una piccola via ricordiamo quei passaggi commoventi della storia di un'anima quando lei stava cercando la sua vocazione il suo posto nella chiesa dice io vorrei fare la missionaria voglio fare la moleca di causura voglio fare tutto però se faccio tutto non è possibile fare tutto perché è una cosa o un'altra e non riuscivo a trovare il mio posto a un certo punto mi ha avuto una luccia ma la chiesa ha un cuore che batte ha un cuore bruciato dall'amore e se c'è sta di battere il cuore bruciato dall'amore i martiri non vestono il sangue gli apostoli non predicano i frati non fanno penitenza i frati non annunciano il Vangelo ecco ho trovato il mio posto nel cuore della chiesa sarò l'amore bellissima espressione fuggirò la morte perché l'amore è più forte di essa questo aneco del cantico dei cantici no? forte come la morte è l'amore una fiamma che viene dal signore le grandi acque non possono spegnere l'amore nei fiumi travolgerlo invincibile l'amore vedete lei io madre col tuo perfetto e col mio totale di amore imbalzamerò il mio re d'amore bellissima l'espressione anche che usa dove sta? aspettate un attimo dice tu l'innamorata santa io l'immacorata peccatrice devo ritrovare questa espressione che è veramente che è veramente stupenda no? adesso poi la troverò proprio per rileggerla no? comunque l'innamorata santa è l'immacorata perché è l'innamorata che l'innamorata scusate che fu peccatrice adesso non l'ha evidenziata mi sa purtroppo non riesco a ritrovare questa frase però l'abbiamo sentita l'abbiamo e ci rimane no? il grande segreto di Maria di Magdala quindi eccolo qua l'ho trovata ci chiuderemo qui dentro noi due domani il terzo giorno le sue innamorate tu l'innamorata santa io la povera innamorata sapete che l'esperienza di Maria di Magdala a fianco a Maria di Nazareth e di fatto sotto la croce ce l'hanno tutte e due ci mostrano le due condizioni veramente di privilegiate per poter puntare al cuore della nostra vita cristiana il cuore della nostra vita cristiana si certamente la prima cosa è la fede ma sapete che la fede la speranza è la carità la carità che è l'amore verso di lui noi dovremmo impazzire tutti quanti di amore l'amore parte dalla fede certamente ma deve essere coltivato perché la fede senza la carità è poca cosa anche la fede grande donna quindi le due condizioni fondamentali la purezza assoluta di Maria la storia della chiesa pullula di anime pure e virginali maschili e femminili che proprio per questa condizione di straordinaria purezza hanno amato follemente del signore oggi secondo il calendario antico è Santa Maria Maddalena De Pazzi una fuoriclasse di prima categoria la purezza stessa un San Luigi Gonzaga a giugno tra poco la purezza stessa un santo curato da Ars la purezza stessa però sono anche i grandi peccatori un sant'agostino per esempio no Magdala la beata Angela da Foligno scriveva era una di quelle volte che non stavano parlando i santi con umiltà i primi non mi ricordo se erano 37 o 38 anni della mia vita stendiamoci un velo pietoso e c'era proprio da spegnere da stenderci un velo pietoso non è come dicono certi santi insomma che si autoflagellano quindi si se ne dicono un sacco che hai fatto non ho fatto il digiuno il venerdì quando mia mamma mi allattava prendevo il latte anche la mammella del venerdì qualcuno l'ha scritta queste cose qui io lo dico con il sorriso sulle labbra ma in qualche agiografia in qualche biografia io ho letto qualcosa del genere e non ridiamo però pare che la beata l'angela la Foligno una delle più grandi mistiche anche lei della storia della chiesa ha avuto i primi anni della vita che era un disastro quindi le due condizioni privilegiate sono l'innocenza ma anche la peccatrice che però sia pentita profondamente e penitente io non mi sono perdonata la lussuria di essere stata lussuria per tutta la vita consumata morirò in questo segreto l'impianto è in quel pianto che ha avuto il coraggio quello che dice a Pietro fallo fai i fatti fallo vedere santamente non in maniera scomposta per farti commiserare no? ecco innamorata per chi segue le dirette questa nonna mercoledì dovrebbe andare il venerdì però l'importante è che mantenga la cadenza settimanale cercando di trovare delle formule di coesistenza con le tante cose che il Signore mi chiama a fare Dio vi benedica la Santa Vergine ipotegga Claudentur Iesus et Maria